la schermata iniziale dei AutoCAD 2013 che possiamo anche ovviamente disattivare presenta delle funzioni interessanti che Autodesk fornisce a sinistra in questa colonna abbiamo il classico menu di apertura dei nuovi file apri file di esempio oppure apri dei file recenti di cui abbiamo sotto una preview al centro abbiamo la possibilità di vedere un video con tutte le novità di Autodesk quindi di AutoCAD 2013 e dei video introduttivi realizzati su dei temi particolari a destra abbiamo il collegamento con Exchange Apps che sono delle application fornite da Autodesk gratuitamente o a pagamento che possono essere interessanti per chi lavora con AutoCAD ad esempio ci sono molte funzioni di visualizzazione o conversioni ad esempio di file in altri formati nei quick links abbiamo un po' uno schema generale delle application fornite in account setting abbiamo le informazioni che abbiamo deciso di fornire da Autodesk relative ai nostri programmi operativi e altre informazioni ad esempio servizi che noi possiamo utilizzare in rete come Autodesk 360 per la condivisione di file oppure Autodesk 360 rendering per fare dei rendering in maniera molto veloce utilizzando un server Autodesk abbiamo anche il Green Building Studio per trasferire i progetti online e fare dei calcoli di base energetici altre funzioni interessanti di questi sono appunto quello che abbiamo detto Autodesk 360 anche la possibilità di collegarsi con Facebook o Twitter con le pagine appunto di Autodesk dedicate ad Autocad abbiamo anche l'help in linea e la possibilità di scaricare la guida non in linea di Autocad abbiamo la possibilità anche di fare la subscription center oppure di utilizzare delle opzioni online che sono relative ad esempio della configurazione di Autocad quindi questo vuol dire che possiamo gestire online una configurazione particolare di Autocad e utilizzare in qualunque computer questa configurazione o ovviamente anche la condivisione di alcuni progetti di Autocad e utilizzare in qualunque computer di Autocad